Nelle scorse ore siamo stati sul nostro territorio insieme ad una truppe della RAI per raccontare le tante esigenze dei comuni piemontesi. A partire da Alba, dove abbiamo messo in evidenza il tema della didattica distanza e anche le difficoltà connesse a questa. Siamo poi stati nella zona di Langa, a Monforte con l'amministrazione comunale ed insieme all'amministrazione di Roddino. Realtà che hanno evidenziato ancora una volta quanto sia necessario per colmare le distanze tra centro e periferia, mettere delle risorse certe sul tema della connettività. Ancora stesso tema a Monbasilio insieme al sindaco, una realtà che ha sentito il dramma della recente alluvione e che ha evidenziato come sul tema delle uguali condizioni non si debba fare passi indietro, ma anzi si debba accelerare uguali condizioni competitive per chi abita o fa impresa nelle periferie di questa regione, che periferie non sono ma sono davvero centri rinevralgici. Noi abbiamo visto con chiarezza questo dinamismo anche a Garessio insieme al sindaco Fazio e notizia delle scorse ore, l'abbattimento del ponte generale Odasso, a testimoniare la voglia di una comunità che messa a terra oggi vuole ripartire, ma che chiede aiuti allo Stato, aiuti alla regione per far sì che questa battaglia sia anche una battaglia di democrazia ed una battaglia di civiltà. Quindi ringraziamo la RAI per l'attenzione e siamo certi che aver acceso i riflettori sui nostri comuni sia davvero un esercizio importante per chi comunque continua a rimanere qui nonostante tutto.